Ciao tifosi fanatici del Napoli, andiamo a farvi un altro video qui sul canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, siamo insieme e ora andiamo al telegiornale. Simone Bonavita, alla scoperta del nuovo talento portato dal Napoli il giovane calciatore è arrivato a Napoli nell'ultimo giorno di calciomercato. Questo è un centrocampista di talento. Il Napoli ha garantito un talento interessante nell'ultimo turno di mercato. Il club partenopeo ha infatti ingaggiato il centrocampista Simone Bonavita, Casertano, classe 2004. Rinforzerà la primavera di Niccolò Frustalupi. Il giovane calciatore arriva provvisoriamente dall'Inter. Bonavita ha collezionato 5 presenze in campionato e 5 in Youth League con i Nerazzurri in questa stagione. L'operazione è stata ufficializzata sul sito della Liga Serie A. Chi è Simone Bonavita? Centrocampista centrale, può ricoprire indifferentemente più ruoli di reparto, dunque, regista, ma anche mezzala. Il tutto unito ha un'ottima visione di gioco e ha la capacità di destreggiarsi abilmente con entrambi i piedi. Ecco perché il paragone con Sandro Tonali è venuto del tutto naturale. Bonavita nel suo cuore si ispira a Luca Modric per tenere la maglia azzurra del Napoli e anche per vivere l'emozione di vestire l'azzurro della nazionale. Quindi ragazzi, siamo insieme, non dimenticate di iscrivervi al canale e lascia il tuo like per aiutarci, e fino al prossimo video.